allora ragazzi partiamo col dire sakura no è uno dei centri commerciali più vicini alla stazione di sendai è aperto da circa 15 anni lo stesso tipo di centro commerciale esiste in altri due posti aomori e iuate ma la società che gestiscono i primi due sono totalmente diverse da quella che da quella che gestiva questo centro commerciale si è verificato che cosa il 26 se non sbaglio è stato chiesto a tutti quanti i dipendenti e tutte le attività commerciali del centro commerciale di chiudere alle 6 in conseguenza al fatto che ci sarebbero stati dei lavori di manutenzione per terremoto in caso di terremoto automaticamente le attività si sono preparate per chiudere e riaprire una di queste attività che vi mostrerò lo screen del twitter che ha mandato è un negozio di cosplay che sta dentro la struttura che ha twittato ha detto ragazzi oggi chiuderemo prima mi dispiace questo disagio ci rivediamo domani questo dimostra il fatto che nessuno aveva la minima idea di quello che stava succedendo figuratevi che dentro all'interno ci stanno c'erano già tutti i riferimenti per i what day per 14 di marzo nessuna attività come c'erano un'idea ci sta su twitter perché già poi si usano un sacco twitter ci stanno pure le immagini che riguardano ristorante indiano che col tutto che i soci e lui è il socio della società automaticamente ha dovuto giudere pure lui ed era ma le foto che ho visto su twitter molto arrabbiato perché 120 persone hanno preso il posto di lavoro eccoci qua tendon temporale sova semplice è semplice siamo a 1500 yen io ho scelto invece questo non ci entra devo tornare indietro con la videocamera che non c'entra avete visto che spettacolo di genna mi sono fatto con mia moglie l'altra settimana non ci aspettavamo siamo già stati anche l'anno scorso e sakura noi rappresenta comunque è un simbolo vicino la stazione di sendai proprio perché comunque c'ha tanti anni tanti negozi molto interessanti all'interno che è successo quando la società ha deciso di chiudere per questo pseudo controllo per terremoti hanno cominciato a smandellare dentro il giorno dopo i dipendenti sono andati a lavorare convinti che erano già da normali si sono trovati il foglio che rappresentava all'inizio della procedura di fallimento l'azienda ha maturato un debito di circa 26 milioni di euro non so spicci automaticamente loro non solo sapevano niente si sono trovati tutte le attività chiuse e i posti di lavoro bruciati allora uno dice ma come fanno a bruciare i posti di lavoro senza preavviso e ve lo faccio vedere subito in modo che dovrei mettere destra o sinistra dal sito di sakura no ho preso e ho trovato tutti i riferimenti dello stipendio ci stanno tutti quando si guadagna il contratto è part time è una specie di contratto a tempo nel senso che l'azienda non deve garantire un tot di ore c'è gli può dire viene a lavorare 5 viene a lavorare 6 viene a lavorare 10 viene a farti 15 ore oggi mi servi domani no dopo domani ciao sono liberi di fare quello che vogliono l'unica cosa positiva rispetto a un baito che vessano una parte di contributi il loro baito manco prende ma anche i contributi prende però questo è la libertà ma in una parte di questi dipendenti hanno perso il posto di lavoro in conseguenza al fatto che l'azienda non doveva dargli nessun preavviso molti giapponesi usano questo sistema perché molte donne sposate per non far salire la mondiale del denaro che sia del marito cioè le dichiarazioni redditi per non farla salire troppo in alto scelgono di fare un contratto leggere in maniera che si tengono basse fanno poche ore giusto il tot per poter dare una mano in casa ma non troppo da doverci rimettere po' di tasse cioè la maggior parte delle persone molte volte in questi centri commerciali sono persone pagate part time non hanno contratti pochissimi missimissimi hanno contratti buoni pochissimi la maggior parte non ne ha automaticamente un'altra cosa che ha creato danno all'azienda adesso le scuole hanno chiuso qua stanno giudendo marzo è un mese transitorio in Giappone aprile ricomincia l'anno scolastico logicamente tutti i nuovi studenti cosa fanno? vanno nei centri commerciali vanno a ordinare le divise era uno di questi centri commerciali che si occupava delle divise vuol dire io studente giapponese vado là mi prendono le misure è ordino adesso non possono hanno già pagato sta gente ha ordinato e ha pagato la divisa la divisa che hanno dovuto chiedere all'altro centro commerciale a Fujisaki di dargli una mano per poter risolvere il suo problema perché ci sono migliaia di divise già commissionate ma che loro non potranno consegnare automaticamente il suo centro commerciale è corso in aiuto e sta aprendo uno spazio dedicato solo per le persone che avevano già contrattato con Sakurano è un casino si è creato questo è la cosa in Giappone il fallimento c'è in Giappone il lavoro lo si può perdere perché i contratti di lavoro sono precari alcuni sono precari ecco perché il giapponese corre esce pazzo per prendere un contratto se sciano un contratto in azienda grande un contratto vincolato in modo che l'azienda non lo licenzia mai ma che va lo sposta ma gli garantisci che non ci sarà nessun licenziamento questa volta non si è verificato 120 persone hanno perso i posti di lavoro sopravvivono due grandi uno di questi ha il book off che è enorme è in affitto non è proprietà della società è in affitto perciò è riuscito a rimanere aperto ma secondo me non è che lasceranno l'edificio solo per loro sicuramente ci sarà una forma di alternativa cioè loro cercano un altro posto o qualcuno adesso subentrerà a fallimento cercando di comprare se non sbaglio mi ha detto mia moglie che è la terza o la quarta volta che fallisce una società nella gestione del sacro cioè già è navigata come struttura da passati fallimenti cioè non riesce a rialzarsi un altro fallimento e ve lo dico subito vi lascio il video anche nei commenti l'ho fatto è il negozio dell'applicazione giapponese a Sendai pure quello è fallito uno o due giorni che è fallito ha chiuso ha messo pure quello ma se facciamo un giro a Sendai ma questa è una realtà che uno passa a fare un giro pure a Tokyo non è che il fatto che si è rese possibile la prima attività con una tassazione diciamo bassa i giapponesi non la considerano tanta bassa questa tassazione anche se si aggirano tra 30 e 40% in Italia con tutto raggiungiamo il 75% perciò uno vede il Giappone come la miniera ok ma tu puoi avere questa tassazione ma devi avere anche la gente che compra alcuni negozi al sacro erano vuoti il ristorante dove siamo stati con mia moglie era vuoto perciò puoi avere tutte le egevolazioni possibili per la prima attività ma se non c'è la clientela che ti viene a comprare siamo punti a capo io non ho notato un altro che potrà chiudere sono convinto che è per la via buona perché pure questo centro commerciale in mezzo a Sendai è vuoto ci sta pochissima gente ma è una catena ci sono tante altre attività che hanno aperto ci sono un sacco di strutture che stanno rischiando di chiudere a Sendai perché non ci sta numerico e a Tokyo chiudono e ricambiano chiudono e ricambiano perché aprono e sopravvivono un anno poi finiscono i soldi fanno o la va la spacca questo è la cosa molti dicono eh ma qua c'è il benessere il benessere relativo se apri 10 negozi di abbigliamento l'ho detto un sacco di volte in tanti altri video e si vende la stessa roba cambia solo il nome della marca cambia poco io non compro il stesso proprio scrap in 10 negozi di vesto lo compro in uno non compro la stessa giacca e questo è il fatto si dà la possibilità di aprire la stessa attività in piccoli in pochi centinaia di metrici vedi stesse attività aperte cioè si scanano uno con l'altro per pochi spicci è stata assurda è una cosa assurda io vi tengo aggiornati non credo di aver dimenticato nessuna informazione la quale avevo cercato vi lascio in descrizione anche il sito se avete google chrome potete automaticamente vedere il sito una parte delle informazioni traduce in automatico dalla lingua giapponese in italiano perciò vi danno a mano a poterci capire qualcosa della situazione perciò però rendetevi conto che il fallimento c'è il giappone non è inerme non è intoccabile davanti a questa realtà esiste esiste in tutte le parti del mondo ci stanno e uno dei problemi è questa cosa qua in futuro farò un video anche sulle pensioni perché è un argomento pure che deve essere trattato ma un video iniziale perché l'argomento è veramente complesso però man mano si può aprire una discussione e con altri video poi la si può trattare nello specifico ma quello vi farà capire anche il futuro del giappone il futuro di tante idee perché nel 2019 col cambio delle attestazioni al 10% dopo le olimpiadi si vedranno se i risultati saranno stati positivi o negativi per me saranno sicuramente positivi a livello di numerico di turisti a livello di spettacolo ma saranno disastrosi appunto visto dal debito che Tokyo si prenderà sulle spalle si prenderà un bel debito e si vedrà poi dopo come lo gestirà non è che il giappone non ha già un debito pubblico spavendoso ce l'ha già è assurdo che riesce a stare in piedi calcato che è un paese che lavorano parecchio anche con titoli di borse azio quotazioni in borsa stock mercato finanziario speculano di brutto i giapponesi cioè non come cavolo fanno ancora a stare in piedi è da capire chi ne sa qualcosa su servo a Mendi se ha visto dei fallimenti come si vive a Tokyo o altre parti o situazioni tra colleghi nei commenti sotto sto video dite la vostra perché è bello informare e continuare a scambiare opinioni al riguardo io se so qualcos'altro ragazzi vi tengo sempre aggiornati come sempre perché è un piacere ho cercato di prenderla un po' lunga perché sono arrivati un sacco di informazioni più cerco più ne escono cose sul centro commerciale e ciò è una cosa la cosa rimane quella che ho detto è fallito non hanno detto niente a nessuno che era un progetto di fallimento e molta gente ci ha ripagato anche gente tipo manager di ristoranti come quello indiano che era tranquillo di andare a aprire il suo ristorante il giorno dopo invece tac ciao saluti questa è la realtà ragazzi la ci sono la crisi c'è la bangarotta quella che è successo negli anni 90 il crollo economico ha creato mezzo milione di disoccupati in 20 anni il giappone è un'economia che stagna che si mantiene lentamente procede ma non ha alte bastate una con una lentezza ma non riesce a stare in piedi come fanno sono solo loro è una cosa incredibile è una cosa incredibile va al prossimo video del giappone ragazzi un bacio grazie per essere su questo canale grazie per aver visto il video ti consiglio di guardare le playlist e altri video che ti suggerisco di parlare con gli amici di condividere di iscriverti se non l'hai già fatto porto video dal giappone tutti i giorni e cerco di condividere la mia esperienza con il giappone con tutti quanti perché il sapere è di tutti e non solo di pochi un bacio dal giappone grazie per aver guardare con gli amici